Ciao ragazzi, qua siamo in uno specie di taxi improvvisato C'è anche Matteo, ma che roba! Ciao, ciao, ciao Ciao, io sono l'autista Aspetta, aspetta Dario, Mariella, ciao Noi vorremmo andare alla frasca Alla frasca, qua siamo Questi nomi fantasioni, non c'è nessun ristorante in Italia che si chiami la frasca Allora, qua c'è anche un algorino, qui c'è l'ambrogio Ma c'è anche la caccagna Qua siamo in modalità sticazzi proprio a mille Sticazzi time Sticazzi time, qua siamo Puro divertimento all'estato pur Altro che Greenwich Village, altro che New York Manhattan Qua siamo a Sassu Maggiore Eterne, ragazzi Cioè ragazzi, ma che vita tra l'altro Che vita, qua c'è una vita che è il cimitero degli elefanti Però abbiamo alzato le camette Abbiamo alzato le camette Sì, veramente Cioè abbiamo abbassato No, abbassato 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 Oh, ragazzi Domani venite all'osti cazzi Non avete cazzi E basta E basta E insomma Che comportazione è questo? Sto da te Che comportazione è questa? Che comportazione mentamente stente è questa? Giratelo bene Ci stai portando per le strade di Sassu Maggiore Adesso condividiamo a palla Dovete venire allo sticazzi Vi siete persi Roba che faceva veramente le scintille E domani ci siamo anche io e Francesco Guardateci bene C'è anche Marielle Scusa perché io stamattina non c'ero Ah già è vero Mi hai detto che E brava Non l'hai ancora detto Quindi sti cazzi In sospeso Mi dice che Ginevra Presente è in diretta ora Come è possibile? Sono in diretta ora Ma come vai? Ma non lo so Sono delle cose strane Ciao ragazzi Nell'era dei social Ciao 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 Come dice Paola Ferraro Che pianeta Che pianeta